In Franza del Comasei, Vinedi, the best Romanian rider! Riccardo, per te, due anni di fila al secondo posto, cosa pensi di questo risultato? Penso che forse questo punto ha maledetto per me, perché come hai detto te, l'anno scorso secondo per poco più di un secondo, quest'anno uguale, niente, ci ho creduto però a un ora il vincitore, ci riproveremo domani, dai. Matteo, per te è la prima volta qua al Tour CTU, ultimo a partire, come sta? Ho filtrato anche nell'intervista, sì, no, è un prologo molto tecnico, è stato divertente, io ho dato il massimo, mi sono impegnato, piace aver fatto tutto bene, però loro sono stati più ravi di me, quindi sono contento così, domani testa a testa, chi vincerà a Prove 2? Sì, sono stato tutto più facile, facciamo una scommessa, magari, scommettiamo una birra, dai. Però magari facciamo ancora una seconda testa, è meglio che uno dei due rinca, che spieghiamo!